Sabato esordio casalingo per la futsal San Giovannese contro Massa da riscattare la sconfitta di Reggio Emilia contro un'avversaria tradizionale che ha peraltro esordito battendo di misura la matricola mattagnanese. Ancora qualche azzurro poi è purtroppo frequentatore dell'infermeria. Affrontiamo una squadra ostica, hanno preso due o tre elementi di spessore fra cui Garrote che ha fatto diverse presenze in Serie A, più di 100 gol nel futsal Barletta. Insomma è un giocatore fra l'altro che conosco bene perché ha giocato in Puglia. Per il resto noi dobbiamo pensare soprattutto al nostro campionato, però sappiamo che la partita di sabato non sarà assolutamente facile, quindi bisogna prenderla con estrema importanza e bisogna partire subito forti. Per il resto nulla, quest'anno secondo me abbiamo rinforzato molto tutti i tipi di reparto, a partire dalla difesa, a partire anche dal punto di vista offensivo. L'unica nota stonata è che ancora ci sono tanti ragazzi che non stanno bene, io ho un problema a ginocchio, ci sono tanti influenzati, i menets hanno un problema a ginocchio, ci voglio uguale, vediamo di arrivare al meglio la partita di sabato e tentare di portare i primi tre punti al campionato.